Grazie Guardate qua Guardate qua Tu stai fermo così che ci stiamo tutti dentro E va bene Perché sta in prima E' solo qua Il direttore del Pasqua Luigi D'Ondero E' anche il direttore del Pasqua E' anche il direttore del Pasqua Sì, e' una giornata Veramente una soluzione In quanto la città E' una potenza di buon spiccio E diventerà uno dei più importanti Ci vediamo, buona giornata. La coscia femmine, il primo premio che consiste nel trofeo Consorzio Macellai Braidesi, la fascia, il diploma e i 200 euro offerti della città di Brà, va al signor Dino Tibaldi di Brà. Il primo premio che consiste nella coppa offerta dalla città di Brà nel diploma e in 150 euro, il signor Mattia Silvestro della fasenda di Centallo. L'ha caricato, sta caricando. Grazie. 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 Grazie.